Vi presento la rubrica P.S.O.R.S. Manco Stross Sigla! Sigla! P.S.O.R.S. Manco Stross Che in questi negozi per gente con pochi schei, come me, che vende tutti i Stross Per dire, sto qua, le un porta banana Non occorre aver fatto economia aziendale per capire che se lo vende, viene qualcuno che lo compra Mi sono tenuto il scontrino perché quando finito il video torno in Rio 2 euro Perché non sei su che giallo? Le un strato bicho Spendendo compagno, ti puoi regalare una roba very sour Sourzissima Una roba che ti fa piacere avere in casa, che se non ti regala, ti tocca ciò che ha La carta da cul Impreziosita da una raffinata decorazione in delicate tinte pastello Come una carezza in tal cul E con 2 euro ti ha fatto un figurone? Certi disarai Ma le brutto regalare la carta da cul così Ma no così Impacchettava Con la carta, il fiocchetto Un scritto Buon Natale, baci e carezza in tal cul E voi altri con 2 euro Cosa potete regalare le very sourz? Pi sourz? Manco Stross Che poi, se ti ha la banana massagrata come me, non ti stai dentro Lina ciò Ma! Ma!